So che vi piace la carne. A lui piace mangiare fuori. Gli piacciono i gelati. A volte ci piace passeggiare. A me piace tanto nuotare. Mi piace la cucina messicana. Ci piace andare allo stadio. Mi piace guidare la macchina. Mi piacciono le macchine. A loro piacciono i caffè. A voi piacciono i cani. Ti piace molto viaggiare. A lei piace cenare in casa. Le piacciono molto le camicie. Mi piace molto viaggiare. Luigi ha voluto mangiare una mela. Sofia è dovuta uscire con Claudia. Stamattina mi sono svegliato alle 6. Oggi Giovanni ha 19 anni. Sofia è molto bella vestita così. Luca è potuto venire in macchina. Gli amici hanno voluto alzarsi tardi. I bambini non sono potuti uscire. I loro genitori si sono dovuti alzare. Le mamme hanno preso gli ombrelli. Sofia non è potuta venire in auto. Le amiche di Lisa sono dovute partire. Luca e Gianni hanno fatto 16 anni. Questa donna è stata molto bella. Luca ha voluto ascoltare la musica. Luca e Gianni. Bì. Bì. Cì. Cì. d d e e f f g g h h i i i ilunga oyota ilunga oyota k k l l m l m m n n o o o p p q q q r r r r s s t t u u u w w w w w x x y y y y z z z w 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 stato qui con qualcuno che conosco. Gliel'ho detto ieri sera dopo cena. Non riesco a farglielo ammettere. Il progetto glielo porto domattina. Se ti piacciono te ne compro due. Il ladro non è riuscito a rubarmelo. Diglielo appena vi vedete domani. Se hai l'acqua gliene dai un po'? Se me lo chiedesse glielo direi subito. Hai guanti stretti, non può toglierseli. Dicendotelo mi sento già meglio. I libri me li darai domattina a scuola. Tranquillo, non devi preoccupartene. Di biscotti non ce ne sono più. Fateci trovare la macchina pulita. Ho chiesto di restare con voi. Mi prometti di essere bravo? L'ho convinto a fare la spesa. È stanco del troppo nuotare. È bello andare in vacanza. Cerco di capire il problema. Ho visto volare l'aereo. Vedo di aiutare come posso. Sento abbagliare il tuo cane. Sento di dover andare via. Ci hanno guardati partire. Le regole vietano di uscire. Sono andato a nuotare oggi. Devo iniziare a cucinare. Sento di dover andare via. Io ho una bicicletta. Io ho un guasto alla macchina. Noi siamo molto felici. I miei genitori sono giovani. Mio cugino ha due gatti. I miei vicini sono due tedeschi. Voi siete in vacanza. Claudia ha mangiato una mela. Voi avete il suo indirizzo? Le ragazze sono arrabbiate. Loro sono lontani da casa. Lei ha molte piante. Noi siamo alla stazione. Voi avete qualche informazione. Io ho un'auto nuova. Noi abbiamo un appartamento. Il mio computer è vecchio. Lei ha i capelli biondi. Se hai sete, bevi l'acqua. In biblioteca abbiamo molti libri. I miei vicini sono simpatici. Il mio, il tuo, il suo, il nostro, il vostro, il loro. I miei, i tuoi, i suoi, i nostri, i vostri, i loro. La mia, la tua, la sua, la nostra, la vostra, la loro. I soldi sono nella scatola. Ecco i cellulari degli amici miei. Le scarpe sono sulla tavola. Domani mio zio andrà dal medico. Arrivano alle dieci stasera. Il tappeto è tra la sedia e la tavola. Il gatto dorme sulla tavola, non sotto. Maria rimane a casa tutto il giorno. Preferisco andare con la macchina. Andremo nella casa nuova. Andremo in macchina. Io apro la finestra. Io ho aperto la finestra. Tu bevi l'espresso. Tu hai bevuto l'espresso. Marco chiede qualcosa. Marco ha chiesto qualcosa. Quando chiudono? Quando hanno chiuso? A chi dà la rivista? A chi ha dato la rivista? Voi non decidete, vero? Voi non avete deciso, vero? Anche loro lo dicono. Anche loro lo hanno detto. Loro sono in Italia. Loro sono stati in Italia. Che tempo fa? Che tempo ha fatto? Che cosa leggi? Che cosa hai letto? Dove metti quel libro? Dove hai messo quel libro? Chi perde spesso? Chi ha perso spesso? Che cosa prendete voi? Cosa avete preso voi? Quale scegli, Maria? Quale hai scelto, Maria? A che ora scendono? A che ora sono scesi? A chi scrivete? A chi avete scritto? Io sto in casa. Io sono stato in casa. Vedo i miei amici. Ho visto i miei amici.